E' terminata la ZTL permanente nei fine settimana. Il periodo sperimentale partito a maggio è durato fino allo scorso 25 ottobre. Vengono così ristabiliti gli orari di prima, anche per il sabato e la domenica. E' vietato pertanto accedere nel centro cittadino dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.30 all'una di notte tra domenica e lunedì. Dall'una si potrà così accedere tranquillamente per corso video. Il provvedimento di chiusura di 48 ore dell'ex assessore al centro storico Gianni Cirillo aveva creato in questi mesi divisioni tra cittadini favorevoli e commercianti contrari. Finita la fase sperimentale non verrà prorogata. Il ripristino potrebbe esserci nel periodo natalizio. Non avrebbe senso ora in quanto in giro, essendoci poca gente, andrebbe a nuocere negativamente al centro storico, afferma il sindaco Fabio Federico. La chiusura del corso nei fine settimana, soprattutto all'inizio, aveva creato un po' di disorientamento tra gli automobilisti che inconsapevoli del divieto si sono beccati le multe. Le multe rappresentano un tocca sana per il comune di Sulmona che in totale, tramite i barchi e non, ha fatto registrare introiti per oltre 70 mila euro. Con il termine della fase sperimentale è stato ripristinato il divieto di sosta nel tratto di corso video compreso tra via Barbato e Vico dell'ospedale, consentendo la sosta a tempo determinato tutti i giorni, tranne i festivi dalle 8 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 17.30.